Ciao e benvenuti a tutti in questo nuovo video in cui andremo a scoprire quali sono le novità introdotte nella nuova versione di PrusaSlicer, la 2.3.0. Con questo aggiornamento sono state introdotte alcune funzioni veramente interessanti. Partiamo subito vedendo la prima che ci troviamo davanti in questo momento, ovvero questo menu in alto a sinistra in cui ci vengono mostrate le varie caratteristiche e il tempo impiegato per ogni caratteristica. È possibile andare a nascondere alcuni tipi di caratteristica come ad esempio i perimetri e così via. Ci viene mostrato anche la percentuale di tempo impiegata per stampare ad esempio i perimetri su il tempo totale che viene stimato qua in basso. Questa funzione è veramente interessante perché ci permette di analizzare a fondo il nostro processo di stampa prima di caricarlo sulla stampante. Adesso invece andiamo a vedere come utilizzare l'ironing. Di sicuro ne avete sentito parlare. Se non sapete cos'è l'ironing appunto in italiano significa stiratura ed è proprio la stiratura della trama, dei layer superficiali. È possibile attivarla andando in impostazioni di stampa e sotto la voce riempimento troveremo appunto stiratura. Va attivata e qui Prusa Slicer ci fornisce dei valori di partenza. Io vi consiglio appunto di partire da questi e poi regolarli al meglio in base alla vostra stampante. Come possiamo vedere la spaziatura tra una passata e l'altra è veramente molto piccola ed è proprio questo che ci permette di lisciare perfettamente la superficie superiore. Bisogna anche indicare il flusso. Infatti durante il processo di ironing l'ugello rilascerà una piccolissima quantità di materiale che andrà a riempire i vari spazi della superficie. È anche possibile indicare dove applicare l'ironing. Applicandolo su tutte le superfici superiori vediamo che la stiratura viene applicata sia sul layer più alto ma anche sul layer più basso. Andando invece ad impostare sulle superfici superiori più alte vediamo che le superfici più basse, la scalettatura e questa superficie verranno lasciate con la trama classica. L'ironing è una funzione veramente interessante, non è applicabile su tutti i tipi di oggetti in quanto appunto l'estrusore deve fare delle passate e riesce a farle solo dove c'è una superficie piana. L'altra cosa da tenere in considerazione è che l'ironing aumenta di molto i tempi di stampa. In questo caso possiamo vedere che il 24% del nostro tempo di stampa è impiegato per fare la stiratura. Con questa nuova versione è stata introdotta anche la trama del riempimento monotonica che è possibile attivare sempre nelle impostazioni di stampa sotto la voce riempimento e qui dove possiamo scegliere la trama per il riempimento superiore e inferiore è possibile scegliere monotonico. In questa immagine possiamo notare una grandissima differenza nell'aspetto dei due oggetti. A sinistra abbiamo il vecchio riempimento lineare che però lascia tonalità diverse sulla superficie mentre la trama monotonica stendendo le linee sempre nella stessa direzione riesce a garantire la stessa tonalità su tutta la superficie. Analizzando l'anteprima di stampa vediamo come il riempimento lineare muove l'ugello un po' verso sinistra e un po' verso destra andando a creare appunto le diverse tonalità sulla superficie. Impostando invece il riempimento monotonico l'estrusore si muoverà sempre verso sinistra. Adesso ho cambiato oggetto perché vorrei farvi vedere che è stato introdotto il riempimento cubico adattivo. È come il vecchio riempimento cubico solo che la percentuale di riempimento viene adattata in base all'altezza dell'oggetto quindi come possiamo vedere in basso e attuale attorno alle superfici sarà più denso mentre all'interno al centro dell'oggetto rimarrà un riempimento più basso in modo da ridurre i tempi di stampa e lo spreco anche di filamento come in questo caso che è un oggetto che occupa tutta l'area di stampa e che richiede come possiamo vedere un tempo di stampa molto lungo ci salverà parecchie ore. Con il riempimento adattivo praticamente dimezziamo il tempo di stampa. Come possiamo vedere salendo di altezza al centro vengono tracciati dei rombi molto più grossi rispetto ad esempio intorno alle pareti. In questo modo avremo comunque una buona consistenza dell'oggetto che non si romperà facilmente. Può essere abilitato andando in impostazioni di stampa sempre riempimento e dove c'è trama del riempimento dovremo scegliere adattivo cubico. In questo caso ho attivato l'ironing che su un oggetto come questo mi porta via 5 ore e come possiamo vedere non apporterà dei benefici veri e propri per la stampa in quanto l'ironing viene applicato come ho detto prima solo sulle superfici piane. Come possiamo vedere verrà lisciata solo la parte piana di questo oggetto quindi la scalettatura che darà la forma di questo oggetto rimarrà comunque quindi in questo caso l'ironing non ha una vera e propria utilità in quanto la forma dell'oggetto sarà comunque scalettata. Sempre su questo oggetto possiamo vedere rappresentati da queste linee blu tutti gli spostamenti che il nostro ugello fa da un punto all'altro della stampa. Ogni punto di partenza e di arrivo di queste linee blu può essere un potenziale punto in cui si creano delle piccole palline di materiale o comunque sarà un punto in cui il nostro ugello dovrà attraversare il perimetro e quindi potenzialmente potremmo avere dei piccoli artefatti. Per evitare questa cosa è stato introdotto un algoritmo che è possibile abilitare e che ci permette di evitare che il nostro ugello incroci i perimetri almeno dove è possibile. In questo caso vediamo che su questo oggetto avremo comunque degli spostamenti dell'ugello ma verranno limitati o se uno spostamento è necessario verrà fatto all'interno della stampa quindi il nostro il nostro ugello non andrà più a collidere con lo strato stampato ma piuttosto farà un percorso interno in modo da non andare a sporcare esternamente il nostro oggetto e per abilitare questa opzione dobbiamo andare in impostazioni di stampa layer perimetri e in basso dove c'è qualità troveremo evita incrocio perimetri dobbiamo selezionarla come ci viene indicato è un'impostazione consigliata per chi utilizza estrusori Bowden che soffrono di più del cosiddetto hosing ovvero della trasudazione di materiale da parte dell'ugello anche quando si fa una retrazione mentre gli estrusori diretti da questo punto di vista lavorano meglio perché quando si fa una retrazione è più difficile che ci siano delle piccole fuoriuscite di materiale andando quindi a sporcare l'oggetto quando si attraversa il perimetro questa impostazione andiamo a abilitare anche la lunghezza massima della deviazione ovvero possiamo indicare i millimetri o come percentuale di quanto massimo il percorso si deve discostare dal percorso dal percorso che farebbe normalmente bisogna precisare che questa impostazione rallenta sia la generazione del file di stampa perché saranno dei calcoli maggiori da fare sia il tempo di stampa perché se per andare da un punto ad un altro l'ugello avrebbe fatto un percorso rettilineo adesso farà un percorso molto più lungo andando quindi proprio ad aumentare effettivamente il tempo di stampa in questo caso io vado a impostare 50 per cento vuol dire che massimo il percorso dell'ugello verrà discostato del 50 per cento della lunghezza totale dello spostamento che avrebbe fatto normalmente andiamo a riprocessare una volta effettuato lo slicing come possiamo vedere soprattutto nella parte bassa gli spostamenti da una parte all'altra sono stati limitati di molto mentre nella parte più alta abbiamo comunque tanti spostamenti perché abbiamo diciamo delle isole dei punti più alti e più bassi l'uno rispetto all'altro quindi in questo caso il nostro estrusore non può passare all'interno dell'oggetto ma deve per forza spostarsi da una parte all'altra questo tipo di operazione comunque ha richiesto diversi minuti allo slicer proprio perché richiede molti più calcoli e comunque questo è un oggetto abbastanza grande e complicato con la nuova versione è stata introdotta una nuova funzione che ci permette di andare a fare parte dei calcoli in background mentre ad esempio stiamo cambiando alcune impostazioni quindi ad esempio se noi andiamo a variare l'altezza del layer nel momento in cui cambiamo il valore il programma già andrà a effettuare i calcoli in modo che quando andiamo a cliccare il pulsante processa il tempo di slicing sarà più basso e questa impostazione è possibile abilitarla abilitarla andando in configurazione preferenze e abilitando elaborazione in background già che siamo entrati nella scheda preferenze vi faccio vedere un'altra cosa che è stata introdotta ovvero questo pulsante per poter ridurre o espandere la barra laterale questa cosa è veramente comuna perché con un oggetto grosso come questo ci permetterà di avere una visuale più ampia per abilitarlo dovremo recarci sempre nella scheda preferenze e sotto la voce gui che significa grafiche user interface ovvero l'interfaccia grafica dell'utente avremo la possibilità di selezionare mostra il pulsante di riduce spande barra laterale e in questo modo attiveremo questo pulsante adesso vi mostro un parametro che per molti è misterioso ma in realtà è molto semplice ovvero la lunghezza dell'ancoraggio del riempimento possiamo impostare una lunghezza standard che in questo caso di default è impostata 600% e una lunghezza massima dell'ancoraggio che qui è impostata di default a 50 mm ma cos'è questo cavolo di ancoraggio l'ancoraggio e lo possiamo vedere bene dall'anteprima è esattamente questa parte di riempimento che viene stampata a contatto della parete o di altre parti del riempimento e serve appunto per ancorare saldamente le varie parti del riempimento alle pareti e all'oggetto e con quei parametri noi possiamo andare ad indicare la lunghezza la lunghezza di questa di questa linea e la lunghezza massima quindi questa è la nostra ancora adesso a questa lunghezza se noi andiamo a impostare ad esempio diminuiamo questo valore lo portiamo a 100 vediamo che l'ancora è molto più corta quindi il punto di ancoraggio sarà molto più instabile c'è anche un'altra funzione che probabilmente mi ero dimenticato di spiegarvi nel video sulle istanze di cui vi lascio il link qua in alto a destra cliccando con il tasto destro sull'icona disponi potremo andare ad indicare quale deve essere la spaziatura tra un oggetto e l'altro in questo modo avremo il pieno controllo di come posizioniamo gli oggetti sul piano di stampa cliccando verranno disposti in automatico se clicchiamo col tasto destro e indichiamo una certa spazzatura tra l'uno e l'altro verranno appunto allargati verrà lasciato uno spazio più ampio veramente interessante anche la funzione di ricerca delle impostazioni molto simile a quella di cura andare inserire una determinata impostazione ad esempio stiratura e in questo modo vedremo tutte le impostazioni che è possibile settare riguardanti la stiratura si può anche scegliere di fare la ricerca per categoria oppure utilizzare i termini in inglese come ad esempio se scriviamo ironing ci verrà trovato l'impostazione con il nome di ironing e cliccando sull'impostazione verremo portati direttamente alla scheda dell'impostazione ci verrà indicata quale l'impostazione che abbiamo cercato ultime due funzioni ma non per importanza sono pittura supporti e pittura cucitura anzi probabilmente queste due funzioni sono tra le più interessanti del nuovo aggiornamento e sicuramente se io che voi le utilizzeremo molto di frequente ma riguardo queste due funzioni ho già realizzato un video di cui trovate il collegamento se il video ti è piaciuto e ti è stato d'aiuto iscriviti al canale attiva la campanellina e se pensi che questo video possa interessare a qualcun altro condividilo ciao e alla prossima